Continua con grande successo la corsa del liceo classico scientifico Giovanni Verga di Adrano per raggiungere il titolo finale dei giochi sportivi studenteschi di corsa campestre. Dopo la vittoria schiacciante ad Acireale, dove il liceo Adranita ha conseguito il titolo nella categoria allieve su oltre 2000 ragazze, le giovanissime atlete hanno ottenuto il secondo posto nelle competizioni regionali di Sciacca. Quest'ultima importante impresa ha fatto scattare la qualificazione alla fase nazionale in programma a Novara oggi. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dalle allieve. Quelle disputate sono state gare avvincenti e combattute fino all'ultimo per aggiudicarsi la vittoria. A gareggiare sono state Elenia Lorè, Valentina Dagate, Finuccia Zammataro, Eleonora Rosano, Carmela Zappalà, Federica Costa. Per l'ultima sfida la più importante, liceo Verga di Adrano, sarà rappresentato da Alice Biondi, classificatasi al terzo posto nelle competizioni regionali di Sciacca, Valentina Dagate, Finuccia Zammataro e Roberta Diolosà. A seguire le giovanissime sportive sono stati i professori Salvatore Cantarella, Salvatore Scarvalieri, Pino Lorè, Rocco Bascetta e Salvatore Sanfilippo. Ha mostrato apprezzamenti per gli ottimi piazzamenti delle allieve anche il dirigente scolastico, il professore Orazio Greco.